Benvenuti all'agriturismo Cascina Quartiago. Oggi ci ospita per preparare brivido al caffè. In questo caso utilizziamo gelato fior di latte variegato al caffè della Cold Gelati. Per preparare questo dessert è un consigliabile effettivo, a fine pasto si comincia con frullare o montare della panna fresca aggiungendo due cucchiai di zucchero. La panna è stata montata. Allora, adesso dobbiamo prendere del gelato, mettiamo quattro palline, tre o quattro palline. Aggiungiamo un frullatore, poi ci siamo aggiungendo il caffè, se vuoi? Sì, prima tozzina c'è un frullatore. Benissimo, quindi adesso abbiamo fuggato le palline di caffè con una tazza di caffè. Adesso mettiamo una pallina gelater nel bicchiere. Adesso mettiamo la nostra panna e la mettiamo sopra. Poi iniziamo a mettere le meringhe. Mettiamo qualche pezzettino di meringa. Sì, un po' di cacao. Un po' di cacao. Distribuisci i cucchiaini. Grazie. E' ora dell'assaggio. Anche al parato. Dio. L'asciutto da Poi iniziamo. L'anima. L'anima fino a si suonata. E' un po' di ricchiare. Dio. 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 Ho.